Ok, facciamo un po' di ordine stasera, perché pensavo... più che pensavo speravo di guardare una partita tranquilla e invece no. Partita con mille pregi e mille difetti, come tutte le partite del Milan da inizio stagione ad adesso. Allora, partiamo da un nome. Un nome, un cognome e una pazienza che è finita. Raffaele Leao, ragazzi. Seppur io lo abbia veramente adorato, difeso nel corso degli anni, stasera è veramente l'emblema che in questa squadra, da essere la stella delle stelle, è veramente il giocatore più indietro di tutti. E per più indietro intengo che gente come Ciao, come Musa, come anche Terracciano, sono anni luce avanti a lui. Purtroppo, purtroppo è la verità. Stasera si è palesata l'ennesima prestazione alla Raffaele Leao. Che una volta la prestazione alla Raffaele Leao era tipo quella vista contro il Napoli in Champions League due anni fa, quando si fece quel cost to cost. Quella era la prestazione alla Raffaele Leao. Adesso la prestazione alla Raffaele Leao è camminare per tutta la partita. Camminare e fare la classica giocata che poi verrà postata su Instagram. Dategli tempo 3-4 ore e la vedrete. Questa è la nota negativa insieme a una costante e frustrante incapacità di tenere la testa attaccata alle spalle per tutta la partita. Allora, nel primo tempo, nei primi dieci minuti, il Bruges ha avuto ben quattro occasioni nitide. Quattro palle gol clamorose, di cui una si è pure stampata sulla traversa. E nel secondo tempo, un tempo sei minuti, è arrivato pure il gol del pareggio. Che poi fossimo superiori. In ogni zona del campo, complice anche un rosso, tra parentesi netto, anche, diciamo, memore del rosso clamoroso mancato ai satture del sabato, il Milan doveva vincere questa partita. Doveva vincerla. Il problema è che il gol del pareggio è arrivato in superiorità numerica e per almeno un quarto d'ora del secondo tempo sembrava che il Milan fosse in inferiorità numerica. Si stava riparezzando la partita con l'Udinese. Poi è entrato Okafor, che probabilmente sarà, ma di Champions League ne capisce molto di più del suo compagno scemo di reparto, perché questa è la parola che mi viene da usare, primo pallone che tocca, fa quello che Leao non ha fatto in 60 minuti, saltare un uomo, mette una palla in mezzo, per Anders che trova un gol, e poi trova pure il secondo. Il secondo trova il suo assist di Chukwese, che dopo il gol contro l'Udinese, diciamo che bisogna approfittare in maniera proprio assurda del suo stato di forma. Male anche Loftus-Cic, che forse nel sistema di Fonseca non è proprio il giocatore che forse è più adatto, perché lo vedo molto spaesato. C'è anche da dire che pure l'anno scorso lui ci ha messo un po' a granare, perché le prestazioni di Loftus-Cic le abbiamo cominciate a apprezzare da dicembre e gennaio in poi. Quindi, non essendo una costante, come il numero 10, io gli darei un pochino più di tempo prima di dire la mia, però momentaneamente dico che è un po' un pesce fuor d'acqua e sicuramente dopo le ao, dopo dopo, è quello che è più in difficoltà. Però lui tendo a giustificarlo. Fase difensiva da rivedere, molto da rivedere. Emerson Royale che fatica, perché fatica. Comunque, secondo me, il 6 se lo può portare a casa, sebbene sia di suo dovere ormai farsi saltare una cosa come 4-5 volte a partita. E del resto, la prestazione alla fine conta il risultato, come dico sempre, mi. In campionato dico che il risultato non conta, ma conta la prestazione perché deve essere più costante. In questo caso, vi dico che il risultato conta al 50%, perché sebbene manchino ancora 5 partite alla fine di questo girone, in questa formula che è veramente terribile, della Champions League, che veramente non dà alle squadre medio-piccole una mezza possibilità di poter avere una voce in capitolo, comprese anche il fatto che non ci saranno le retrocessioni, devi vincere tutte le partite da qua alla fine del girone. Poi per carità, dobbiamo affrontare la Madrid e contro la Madrid pure in trasferta, se ci scappa la sconfitta, è anche capibile sconfitta che non doveva scapitare contro il Leverkusen, pareggio che secondo me con un un attimo più di testa poteva capitare anche con il Liverpool, perché abbiamo fatto una prestazione veramente ridicola. Stasera c'è questo 3-1 che comunque tiene la differenza reti a meno 1, però la squadra tolta dalla partita di Firenze è fuori ogni dubbio che sia in crescita, che dalla partita col Venezia vinta per 4-0 sia in netta crescita, nonostante defaianza tipo Liverpool e la Fiorentina, Fiorentina partita che non avresti mai dovuto perdere, al massimo poteva essere concesso un pareggio, però come già detto anche tre giorni fa in questo tour de force di sette partite in 21 giorni dove bisogna fare più punti possibili sia in campionato che in Champions League una prestazione leggermente sotto tono ci può anche stare. Poi si giocherà col Bologna che è una partita difficilissima, ve lo dico già, è difficilissima, giocheremo con Napoli, partita difficilissima, anzi super mega iper difficile poi magari dopo Real Madrid avremo un attimo avversari pochino più abbordabili. Detto questo io vi ringrazio, like al video e iscrizione al canale, questo è il mio commento sulla partita e non ho niente da raggiungere, la prestazione è stata alla fine positiva, poteva essere una partita giocata meglio come tante 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 partite che giochiamo poi alla fine lamentarsi di un 3 a 1 soprattutto visti i cambi e l'effetto che hanno fatto i cambi la ventata di aria fresca che hanno portato alla fine sono costretto a parlarne bene e lo faccio anche con piacere. Detto questo ragazzi appunto like al video e iscrizione al canale ci vediamo con la live reaction domani, domani è mercoledì uscirà Assassin's Creed e vi dico già adesso che la partita col Bologna ci sarà la live reaction ma uscirà lunedì massimo martedì quindi praticamente Bologna e Napoli usciranno una dietro l'altra. Grazie grazie a tutti alla prossima da dire tutto ciao